Com'è andata la stagione invernale? Molto bene, abbiamo fatto circa 12.000 presenze, di cui 10.000 solo con le scuole, quindi nonostante non abbia nevicato tanto, però il tempo bello diciamo ci ha molto aiutato e siamo molto contenti. Il tempo brutto diciamo, più che bello. No, no, il tempo brutto poi è stato un po' questa primavera, però durante tutto l'inverno è stato molto bello, per cui questo ha aiutato molto, ecco. E per la stagione estiva ci sono eventi, particolarità? Abbiamo già in programma domenica 16, un trail di 15 chilometri, poi altri eventi diciamo a carattere sportivo, sempre un vertical a fine settembre e altre due gare di downhill tra settembre e ottobre. Oltre alle gare di downhill i percorsi sono sempre aperti da maggio fino a fine ottobre e poi per quanto riguarda sempre invece le gare in bici abbiamo anche il 28 di luglio la Prato d'Oganaccia, su Corsa su Strada. Abbiamo sempre il Parco Avventura e Bob su Rotaia sempre aperti tutto l'anno e questa è anche un po' la nostra forza, nel senso siamo sempre aperti tutti i mesi dell'anno, per cui le persone che vengono trovano sempre sia rifugi dove poter mangiare, ristoranti, pezzeria, sia le attività da svolgere. Vengono molte famiglie? Vengono tante famiglie, soprattutto d'estate e abbiamo la possibilità anche di avere tour di trekking organizzati con le guide ambientali e varie, diciamo, svariate attività da poter fare, sì, tutta la famiglia, tutti insieme. Vengono tante famiglie, anche tanti gruppi, tante scuole e anche tanti gruppi comunque di gite organizzate. Ma c'è anche una grossa, grossissima novità. Da fine giugno il Parco Avventura verrà ampliato anche per i bambini proprio più piccoli e inoltre verrà installata una parete di roccia per scalare di circa 8 metri, quindi ci saranno anche queste novità da provare.